oh oh vittoria sporca brutta sicuramente per modo di dire cioè insomma vittoria di misura su calcio di rigore per la juve under 23 che batte la propatria 1 a 0 grazie al rigore di brighenti allora diciamo che la juve era partita molto male molto male la propatria è partita molto forte e ha preso un palo è andata vicino il gol dopodiché la juve pian piano ha preso campo mi ha dato poi la sensazione che la juve fosse veramente rimasta sotto shock per l'infortunio di caio george a proposito come ho detto nel video precedente caio george probabilmente se lo siamo giocati perché penso che ci sia di mezzo il crociato anche se spero di sbagliarmi ovviamente ma come è sceso come è caduto non lascia ben sperare detto questo la juve comunque nel finale di tempo è cresciuta e nel secondo tempo penso che abbia meritatamente meritatamente portato a casa la partita perché secondo tempo ha attaccato tantissimo ha messo lì la propatria che comunque una squadra che sta migliorando di partita in partita e quindi una squadra veramente apprezzabile perché c'è ripeto una squadra che sta facendo molto bene ma questa juve è veramente forte e l'unica pecca è che kudrig e pecorino hanno avuto una palla gol colossale per chiuderla a testa e credo che questi palloni a questi livelli vanno buttati dentro perché la propatria oggi non è stata abile a trovare il pari ma se ci fosse stata un'altra squadra pochino più esperta pochino più forte qui a quest'ora eravamo qua a parlare di una partita non vinta e sinceramente non vincere questa partita sarebbe stato veramente un peccato per come si era messa vittoria importante che consente la juve di diciamo arrivare al quinto posto momentaneamente però se domani la tristina dovesse vincere tornerebbe lei al quinto posto e non al sesto ma comunque riusciamo a tenere a distanza le altre e vittoria importante vittoria pesante e adesso vediamo domenica giocheremo ancora in casa con l'albino leff e c'è da difendere questa quinta sesta posizione in base e l'avversario sarà molto scomodo anche perché è una squadra che sta lottando per entrare nei playoff e quindi una squadra molto esperta staremo a vedere fino alla fine forza juventus juventus batte aurora pro patria 1 a 0 la rete dei brighetti nel secondo tempo migliore in campo per quanto mi riguarda oggi voglio premere barbieri che ha fatto una grandissima prova di spinta e difesa ciao a tutti